Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di PKX Simulator Oggi siamo qui in questa mappa per provarla e per diventare dei super mega bellissimi giocatori di questo gioco Allora, craftiamo il nuovo piccone Ok, devo capire... ah così, facciamo con il nuovo piccone, facciamo più danno Poi dobbiamo distruggere questi blocchi E i blocchi, questi sono appunto le texture di Minecraft, come vedete appunto perché è di Minecraft E i blocchi dropperanno delle gemme, ma mi sembra che... ah ok, noi piccolando così per l'aria Sembrerebbe che prendiamo delle gemme, questo costa 35, ok abbiamo trovato un nostro primo animalino Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like a questo video Quanti animali si possono equipaggiare secondo voi? Ecco, provate a fare questa scommessa senza guardare ovviamente quanti animali si possono equipaggiare Provate a scriverlo sotto nei commenti Ok, adesso direi di arrivare per craftare il nuovo pet che toglie 50 La rinascita? La rinascita? Ah, è da un più 10%, ok Scusate ragazzi se c'è questa musica per le nostre orecchie veramente, veramente bellissima proprio Scusate se c'è questa musica per il semplice fatto che non riesca a toglierla perché proprio non si può togliere Cioè proprio sta così questa musica, niente Deve disturbarci Ah, ovviamente lì ci sono, beh diciamo Tutti gli altri boss, solo che sono un po' troppo sopra il nostro livello da distruggere Ok, io ne apro altre Ma sì, ma prendetevi uova dai Reberta, 31 reberta addirittura Una persona ha Ok, il massimo è 3 pet Vedete non ne posso equipaggiare altri Il massimo è 3 pet Ma adesso per distruggere i blocchi Dovrei andare molto più veloce 155 Molto molto bene Molto molto bene Ok, proviamo a distruggere questo blocco Dai 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 Comunque ragazzi vi ringrazio veramente tantissimo Perché grazie a degli short sto riuscendo a salire tantissimi iscritti Infatti nel momento che sto registrando questo video Siamo a 1645 Quindi vi ringrazio veramente per iscrivervi al canale E mi raccomando se siete iscritti guardate tutti i video e tutti i contest Perché sono veramente video che ci metto con impegno e spero che vi piacciono Ok, spacca, 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 spacca Allora, poi voglio sapere un voto da tutti voi su questa mappa Per capire se poi riportarla Ecco, io darei già meno 3 punti solo per la musica Perché c'è una musica che continua così Ok, craftiamo il piccone E adesso ci prepariamo per la rinascita Quindi la rinascita è 1700 Ok, ok L'automatico non funziona per il semplice fatto che Cioè non è che non funziona È che costa Robux adesso Io capisco tutto Ma dovrebbero mettere una cosa gratis Quindi se stai guardando questo video E sei il creatore della mappa Una cosa impossibile però potrebbe essere Beh Rendi qualcosa di gratis Altrimenti poi i fan non ci giocano Cioè Altrimenti io che sono uno nuovo su questo canale Perché dovrei giocare a un gioco dove Cioè non ho niente Devo stare così a cliccare FK Aumenta Oh, 5 minuti Ok Pecconi Ho visto che c'era una bella TNT Un milione Quella normal Wow Questo deve essere bello Ok Rinascita Ah, ora capisco perché forse Ma sono al piccone base? Vabbè però Ho gli stessi pet Quindi ci sta 31 rinascita Ci sta E adesso sblocco zone più avanti E che cosa dovrebbe dare? C'è il più 10% di attacco damage Quindi non ne vale tanto la pena Farlo Cioè Non faccio praticamente danno in più Vorrei provare ad arrivare a un milione Però penso che in questo video Non ci riesco Allora Adesso fermo 3000 Penso di comprare prima un altro piccone Poi fermare 3000 Così compriamo tre nuovi pet Allora Ok ragazzi Ci dovremmo essere quasi Vediamo se da 1500 Questo 700 diamanti Ma è uno scam assurdo Allora Non ve lo consiglio E' da solo 700 Mi aspettavo molto di più C'è quello da 350 Quindi questo da Devo arrivare a 3000 Sono A 2028 Ma Il problema è che sono i miei pet A fare danno Cioè il piccolo non fa niente Vorrei tanto provare ad arrivare a un milione Ma non penso Cioè ragazzi Questo da 500 Vabbè Distruggiamo L'ultima di questo Ok Quanto costano 500 milioni Ottimo 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 Sì sì Stavo scherzando Dai Ciò Non va per qui Ma Raga Cioè mi sei buggato Ok Va bene No ma c'è Ma buggati Tranquillo Ok Va bene Rientriamo un attimo Block miner Si chiama Così intanto Vedete anche il nome Ah c'era anche lo spazio di fianco Non ho capito cosa è successo Cioè si è buggato tutto Aspetta quando Mi viene connessione Ah ok Allora Aspettiamo un attimo Ok Andiamo qui 3 2 1 Ah intanto Uniamoci al gruppo Magari Ci do qualcosa Vediamo Sviluppatore Uniscite al gruppo Vedete Daremi qualcosa Se no Non mi unisco più Eh Vai Mi tolgo subito dal gruppo Se no Mi dai qualcosa Tipo 50 miliardi Subito A posto No niente Mi sono unito al gruppo E cosa da? Niente Teleport Suspe Tre super rinascite Tre super rinascite Cosa sono le super rinascite? Sono bene come non Ok Cento E Distruggiamo Anche questo Perfetto Abbiamo Tre mila Sono mille giusto Vai tre uova Uno Common Vabbè Va bene Due Winterfoxcom Tre Ok Raro Vediamo quanto danno Urca Così tanta differenza Tra raro Va bene Ok Ok ci siamo Vai Questo cos'è? Costa Sì vabbè Dai Adesso San Patrick Dove essere Gratis No? Dovrei fare Un bel po' Di danno Eh Ho questo Presentimento Di fare Ma mi aspettavo Di fare Molto più danno Eh Vai potenzio Ok Ok Adesso andiamo Tranquilli Visto che andiamo Così Buoni Fare anche Una bella rinascita In questo Esatto Momento Andiamo su Super Super Bird Per te Così tanto Urca Non pensavo Vabbè Direi di arrivare A 5 rinascite Ma poi Cioè arriviamo A 5 rinascite Però poi Giochiamocela A modo nostro Perché se no Stare a fare Così tante rinascite Non pensavo Proprio Così tante Cioè 125 rinascite 3 Sono 125 Poi magari Costerà di più Fate 500 rinascite Urca E chi è che Ha così tanto Tempo E voglia Per fare Tutte queste Rinascite Vabbè Bravi Per chi ce la fa Se io non ci riuscirei Proprio Allora Ok Andiamo avanti Potenziamento Del piccone Sì ma non Vedo dove vengo io Bro Cioè Adesso Capisco tutto Ma non andare Dove vado io Allora Visto che abbiamo fatto Così tante rinascite Direi Che possiamo Permetterci Di tornare All'inizio Però farei Un upgrade Distruggerei Questo Vedrei Quanto ci da Ok Perché ci vogliono 50 colpi Netti così Guardate Io che piccone Ho bellissimo Rispetto al suo Senza offesa Però il mio piccone È molto meglio Bro Se non ci può Vai Capisci Eh non gli fa niente Sì basta Seguirmi Lo so che sono Un fortino Ma basta Seguirmi Sto giocando Da 12 minuti E sono un player Eccomi qua Salve 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 tutti Quanto costa Le post Ma dai Ma come 170 Così è troppo Cioè Ma 175 Adesso è troppo Già fai Oh Epico Epico da un po' Epico Me lo sento Che da sopra mille Ma infatti Ma vieni Sì Il top Sarebbe fare Un milione Ma Vabbè ragazzi Dai ci proviamo Ci proviamo Non ce la faremo Eh Ve lo dico Che Non ce la faremo Ora O mi conviene Fare tante rinascite C'è tipo stare così E fare rinascite E Secondo me È una cosa Anche Discreta Da fare Tanto non ci metto Tanto E uno dovrebbe Passare Giusto Non basta uno Allora Distruggiamo Questo Vabbè Ok 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 Arriviamo fino Ad un tot Di rinascite E poi Beh E poi direi Che lasciamo fare Al gioco Per diventare Super forti Io mo Velocizzo tutto Ciao Ok ragazzi Undicesima Rinascita E adesso Direi di provare Anche A fare Missioni Di un po' più alte Cioè provare A sconfiggere Magari Anche Un boss Vediamo se ci riusciamo Tanto sto vedendo Che mi commentate Fantastico Top Grazie 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 Ottimo Potenzialmente Dal gold Super veloce Ma facciamo ancora Troppo poco danno Ma va bene Lo stesso Vai Proviamo a distruggere Un boss E secondo me È questo Che ci farà fare Una vera Rivoluzione Italiana Siamo pronti Per distruggere Il primo boss Che dovrebbe Avere Boh Ok Veloci Siamo tutto Ciao Ciao 19 16 14 11 Poi ho scoperto Anche un'altra cosa Che vi devo dire Assolutamente Che I blocchi Non sono No Solo 35 Mila No Mi aspettavo Sinceramente Molto Di più 35 Mila No Ah Quindi Non posso Comprarlo Cavoli L'avrei voluto Prendere In questo video Ok Sono tristi Sì Volevo Prendere Qualcosa Di meglio Vabbè Non ha senso Craftare I picconi Comunque Direi che Per oggi Il video Può finire qui Mi sono divertito Tantissimo A giocare Questa mappa Spero che vi Piacca Anche a voi Vi metterò Sotto Nel link E come sempre Sotto Nel link In commenti Vi scriverò Il nome Della mappa Basta che me lo chiedete Io ve lo scrivo E vi raccomando Iscrivetevi al canale E lasciate un bel like E ci vediamo domani Con il prossimo Fantastico video Ciao